Ed ora occupiamoci di sport e lo facciamo con il nostro Massimo Profeta che è seduto qui in studio con noi, al quale do il buongiorno e anche gli auguri di buon 2024, buon anno Massimo. Naturalmente auguri che ricambio. Grazie, indirizzati anche ovviamente ai nostri telespettatori. Allora parliamo di calcio, dicevamo ma in particolar modo di calciomercato perché parte oggi la sessione invernale del calciomercato, andrà avanti fino al 31 gennaio. La prima domanda che mi viene da porre è quali sono le priorità per i biancazzurri? Guarda, la priorità intanto è quella di prendere, ingaggiare un portiere e raffeggare a Plizzari. Plizzari che è il miglior portiere della Serie C, si era parlato di Fiorillo, c'è l'ostacolo ingaggio Fiorillo di proprietà della Sernitana, sarebbe un clamoroso ritorno. Però c'è stato un colloquio nei giorni scorsi tra Fiorillo e la DS del Pescara, Daniele Delicari. Vuole tornare a pescare a Fiorillo anche per sei mesi un prestito da parte della Sernitana, ma c'è appunto il problema, l'ostacolo ingaggio e dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio anche della Sernitana. Insomma, diciamo che la possibilità in questo momento è molto remota, lo diciamo da subito. Ci sono altri profili che sono stati così trattati dalla società, si è parlato di Edoardo Corvi, classe 2001 del Parma. Il Parma lo lascia andare a giocare purché però giochi appunto il ragazzo, questo 2001 che è tra i portieri della formazione che è capolista in questo momento della campionato di Serebbi e quindi non se ne farà nulla perché al Pescara interessa un portiere che faccia da secondo, ripetiamo, a Plizzari. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni ma bisogna fare presto perché il secondo portiere è Barretta che è un 2005. Tra l'altro domenica la Pescara tornerà in campo per la prima giornata del Gironi di Ritorno. Il 2024 comincerà con la trasferta sul neutro di Alessandria contro la Juventus Under-23. Possiamo dare anche uno sguardo alla classifica, quello che è successo insomma fino a poco tempo fa perché l'ultima giornata, tra l'altro molto deludente, il Pescara con la Fermana lo scorso 23 dicembre ci ha regalato questa classifica, la classifica del 2023. Il Pescara è in questo momento quarto e la dimensione del Biancazzurri. È chiaro che il Pescara avrebbe potuto fare anche un po' meglio però sono a distanza siderale le due squadre che guidano la classifica. Sia il Cesena come potete vedere, meno 14 dalla Cesena capolista, meno 12 dalla rivelazione Torres. C'è anche la Pinedo che sta disputando un ottimo torneo, settima posizione per la neopromossa di Daniele Amaulo a quota 27 che giocherà invece contro il Gubbio domenica alle 16.15 in casa al Mariani Pavone. Tornando al mercato abbiamo ascoltato nei giorni scorsi sia Sebastiani che Delicarri. È chiaro che la Pescara proverà a migliorarsi Anna, in questa sessione non è mai facile perché quando si commettono degli errori di valutazione in estate è poi difficile porre rimedio a gennaio. Ci proverà il Pescara cercando di prendere due centrocampisti perché è quello il problema della squadra di Zeman. Diciamo subito che sono tutti buoni giocatori ma alcuni di questi giocatori non sono funzionali diciamo così particolarmente al calcio del Buemo. Quindi bisognerà vedere in questa sessione di mercato però bisogna anche sfoltire la rosa abbiamo detto del portiere perché Ciocci non c'è più, di proprietà del Cagliari andrà alla Pontedera dove riabbraccerà il suo ex allenatore ai tempi dell'Olbia, Max Canzi. Non c'è neanche più Manu che si sta già allenando con il Lepineto, andrà in prestito. Sono operazioni che saranno rettificate e ratificate nelle prossime ore. Probabilmente saluterà lo stesso Luca Mora che non è più giovanissimo, 35 anni classe 1988, anzi ne compierà 36 in questo 2024. Sta trattando il suo passaggio con la Virtus Verona ma ci sono anche altre società interessate. Insomma l'imperativo in questo momento è sfoltire la rosa ma la priorità come hai detto tu giustamente all'inizio e prendere un portiere da affiancare a Plizzari. Il mercato è lungo, chiuderà il 31 gennaio, mercoledì 31 gennaio alle ore 20 e intanto ricomincia il campionato. Domenica come dicevo poc'anzi il Pescara sarà di scena sul neutro di Alessandria contro la Juventus Under 23. E noi saremo qui a raccontare tutto in maniera puntuale e dettagliata come sempre. Grazie a Massimo Profeta per questi ultimi aggiornamenti.